ok buongiorno consiglieri seduta di consiglio delle quinte circostruzione secondo appello 12 e 25 del 5 agosto 2021 proseguiamo con l'appello peresi è assente aiello assente sentiamo che ci sono un po' l'appello ok Teresa è assente Cavaliere assente di Gesù assente Figuccia? Assente Rosardo? Presente Lucido? Assente Palazzo? Assente è stabile? Assente 9 assenti e un presente bene segretario quindi presenti quanto? uno un presente eccezionale quindi non siamo in numero legale la seduta è chiusa viene rinviata domani sempre a stessa ora di convocazione buongiorno grazie agli uffici buona giornata Grazie a tutti.